Nel girone B del campionato di promozione Ligure va per 2-1 al Colombo di Beverino all'Intercomunale la sfida con il Don Bosco e con questo successo i beverinesi si mantengono nella scia a due punti della capolista PSM Rapallo insieme al Molassana Boero. Qua abbiamo visto il bel gol di Vargas con cui il Don Bosco Spezia in avvio d'incontro era passato in vantaggio prima di essere rimontato. Passando con le immagini alla pieve spezzina la Tarros Sarzanese micidiale in contropiede sempre per 2-1 si aggiudica il derby provinciale del Pieroni con un cadimare che così frena un po' la rincorsa che con l'approdo di mister Buccellato sembrava aver preso specie dopo la vittoria sul campo del Molassana. Per il resto da sottolineare la vittoria per 1-0 al Tanca del Canaletto con il Bogliasco pareggio per 1-1 dell'Evanto a San Desiderio con il Little James. Infine venendo con le riprese a Santo Stefano Magra senza reti il pareggio tra il Magrazzurri e la Forte Caperanese. E passando al girone della prima categoria Ligure qui si conferma al comando il Brugnato mentre nelle immagini vestiamo i festeggiamenti dopo il primo gol del Marola Quasanta che con un classico 2-0 alla storre Tanca batte l'ambiziosa Bolanese e così si piazza in terza posizione alle spalle della vicecapolista Segesta di Sestri Levante. Finisce senza reti contro il Vezzano all'incerti Ceparanese il debutto alla guida tecnica del Ceparana di Marco Tonelli. Vediamo qualche ripresa al riguardo. E chiudiamo con la seconda categoria girone FIV al comando della classifica c'è il San Lazzaro Lunense mentre nelle immagini vediamo i festeggiamenti al Pieroni da parte di un Mamas passato subito in vantaggio contro il Lerici che però in avvio di ripresa ha saputo rimontare e così è terminata 1-1.